ringraziamenti intanto alla fondazione Gramsci per l'ospitalità e per l'attività costante e appassionata che conduce da tempo ringrazio chi ha scelto di seguire questo questo webinar e la discussione che si propone di sviluppare ringrazio naturalmente i nostri relatori lì a Quartapelle Pierluigi Castagnetti e Walter Tocci che non hanno bisogno di di presentazioni meno che mai delle mie e a questo proposito per quanto diciamo così riguarda il mio ruolo questo pomeriggio sarà quello di rubare meno tempo possibile alla discussione e limitarmi a una brevissima introduzione del libro che qui presentiamo che è il l'ultimo lavoro di Beppe Vacca Italia in cammino letture ricordi e riflessioni che io Matteo e Lorenzo abbiamo avuto diciamo così il piacere l'onore di di contribuire a a curare e a mettere e a mettere insieme e cos'è questo libro in poche parole ma penso che questo libro sia anzitutto un atto di generosità dell'autore e testimonia in qualche misura la cura e l'attenzione non occasionale con cui negli anni Beppe ha sempre voluto curare il dialogo con le nuove generazioni rivolgendosi sia a giovani studiosi quindi penso a Matteo a Lorenzo e diciamo a tanti altri anche al di là di di questo libro ehm che diciamo per cui ringrazio per il lavoro e la presenza eh sia a chi come me nel mio piccolo eh coltiva invece la la dimensione della militanza eh politica è un dialogo diciamo generazionale questo eh che nel nostro caso anche un forte risvolto eh personale avendo con Beppe un rapporto ormai di diversi anni di di affetto eh profondo in cui abbiamo sempre potuto apprezzare il rigore con cui eh ha sostenuto e promosso le proprie posizioni ma anche in qualche misura la pazienza con cui si è eh misurato con eh posizioni posizioni eh diverse e da qui eh anche il riferimento all'aspetto direi pedagogico a cui facciamo riferimento nell'introduzione eh del del nostro rapporto eh con lui ehm il libro eh per chi eh diciamo vorrà vorrà leggerlo eh fonde eh elementi autobiografici che tra l'altro danno uno spaccato eh molto originale interessante delle diverse fasi a cui a cui fanno eh riferimento a una riflessione più generale diciamo sull'Italia sull'Italia repubblicana e da cui emergono alcuni messaggi chiari alcune tesi eh di fondo ehm tra cui eh diciamo così la centralità che Beppe assegna al rapporto tra la cultura politica ehm cattolica del cattolicesimo democratico e ehm quella comunista come chiave come una delle possibili chiavi per comprendere la storia eh del riformismo italiano e anche allo stesso tempo come asse portante dello sviluppo eh del nostro paese sviluppo democratico sviluppo eh civile sviluppo globalmente inteso eh nel ehm nel nostro secondo dopoguerra. Ora eh l'invito eh diciamo che Beppe fa attraverso queste pagine a riflettere sull'apporto delle culture politiche costitutive della Repubblica acquisisce sicuramente un valore particolare alla luce della contingenza che attraversiamo che è una contingenza diciamo complessa, difficile da tanti punti di vista e che sembra un po' mettere in discussione a tutti i livelli tante delle certezze acquisite che insomma eh ciascuno di noi contava di poter dare eh per per punti fermi di dare diciamo così eh per eh per prese tanto che eh diciamo lo sappiamo oggi ci troviamo a misurarci ciascuno nella sua dimensione di responsabilità grandi o piccole che siano con sfide e interrogativi davvero inediti e da tanti punti di vista eh inaspettati eh su un piano eh diciamo così internazionale ed europeo pensiamo soltanto alla sfida posta dalla necessità in qualche modo di reinterpretare e di rilanciare eh il processo di eh integrazione europea eh alla luce eh di alcuni fatti davvero davvero gravi come il ritorno drammatico e inaspettato della guerra sul suolo eh del vecchio eh continente o eh diciamo così la sfida che la pandemia ha posto e che come abbiamo eh saputo dimostrare eh diciamo così ha potuto essere affrontata soltanto su una dimensione che andasse oltre eh gli stati gli stati nazionali in qualche modo costringendo l'Europa ad uno scatto di reni che oggi diciamo così è ulteriormente incoraggiato sul fronte della difesa dell'energia della politica estera a maggior ragione dagli eventi drammatici a cui stiamo eh assistendo o eh sul piano interno ormai l'indebolimento manifesto del quadro politico eh italiano il sostanziale eh fallimento del tentativo degli ultimi venticinque anni di stabilizzarlo attorno a una dialettica eh diciamo puramente bipolare e dunque eh la necessità di misurarci con il forte bisogno di identità di certezze eh che cresce che cresce tra le persone tra diciamo l'elettorato eh del nostro mondo e che richiede alle forze politiche di dotarsi di messaggi sempre più chiari sempre più netti sempre più eh capaci diciamo così di misurarsi con la complessità con la complessità dell'esistente cosa eh che chiama in causa sia diciamo così riflessioni eh di di ampio di ampio respiro eh sia anche temi di più stretta attualità quale quello ad esempio di riflettere eh su quale eh diciamo così sistema elettorale sia il più adeguato a far sì che i partiti siano portati a rispondere a questo bisogno di chiarezza a questo bisogno di definire identità forti eh forti e chiare e eh sono questioni eh diciamo lo accennavo che interrogano in particolare il nostro campo eh diciamo qui piccola nota eh personale e non solo personale diciamo eh anche il partito a cui ad esempio sono iscritto il partito democratico in generale le forze democratiche del paese e che dunque meritano di essere di essere eh discusse